Medici, infermiere, operatrici sanitarie ma anche volontarie, sono tante le donne che nell'arco degli ultimi due anni, quelli della pandemia, hanno messo a disposizione tempo, professionalità e intelligenza a servizio della collettività. Ad alcune di loro in questo 8 marzo è stato reso merito durante la cerimonia che si è svolta nella Sala dei Grandi del Palazzo della provincia di Arezzo. Sì, abbiamo pensato di dare un riconoscimento nel giorno della donna a tutti coloro che in questi due anni si sono impegnati senza fermarsi in due anni di pandemia che è stata per il mondo sanitario e anche quello del volontariato sono stati veramente due anni dove il loro lavoro, il loro impegno è stato fondamentale per noi, per tutta la comunità, ma dove il loro sacrificio è stato veramente grande. Io credo che in realtà, lasciati i primi momenti di difficoltà che abbiamo vissuto, poi il mondo sanitario e quello del volontariato non sia stato poi così riconosciuto realmente tenendo conto di quello che veramente ha fatto. Senza di loro, senza la sinergia tra questi due mondi, il nostro Paese non sarebbe stato in grado di stare veramente a fianco e dare sostegno concreto a tutti coloro che hanno vissuto momenti difficilissimi legati appunto al Covid. Allora oggi vogliamo dire grazie a quelle donne che simbolicamente appunto insieme a tutte le altre si sono veramente date al massimo del loro impegno, non solo lavorativo ma anche umano in un momento difficile. Oggi la festa della donna, una festa che purtroppo prevede ancora un lungo cammino, dico sempre che preferirei che non vi fosse più il bisogno, finché festeggiamo la festa della donna vuol dire che ancora di strada c'è da farne, però insomma noi cerchiamo in maniera anche concreta di mandare un messaggio legato alla donna e alle donne perché prendano consapevolezza della loro capacità, della loro forza e del loro coraggio perché possano essere in grado anche loro di farsi rispettare da coloro che magari il rispetto non portano.